Anche nell'edizione 2018, la leadership internazionale di Tecna Argilla nel panorama feristico mondiale è confermata dalla presenza di top buyer stranieri. Per i brasiliani, cosa significa essere qui a Tecna Argilla? Beh, in realtà, noi arriviamo a Tecna Argilla per ogni edizione, non possiamo perdere nessuno perché qui vediamo le nuove tecnologie, le upgrade sull'economia, la tecnologia ceramica e il brasiliano è uno dei più produttori del mondo, è stato un terzo produttore del mondo e anche il mercato brasiliano è molto forte, il mercato domestico. Il mercato brasiliano è il terzo più grande mercato di piastrelli, quindi è impossibile non essere qui per la nostra industria. Ogni anno ci sono molti dettagli che vengono per migliorare la qualità dei prodotti, le grandi slaggi, questo è fantastico. Tecna Argilla è principalmente per la tecnologia. e sono davvero ammazzato per vedere le grandi macchine, soprattutto per la qualità che, almeno, non ho mai visto in India. È la prima parte di partecipazione di India, a un livello di paese. E ho trovato questa meraviglia per la industria ceramica. Perché hai deciso di arrivare qui? L'India ha un grande potenziale, soprattutto nelle industrie ceramiche. E ora siamo saturati nel mercato indiano, quindi cercano di sviluppare il mercato mondiale. E abbiamo trovato che questo è il miglior momento per arrivare, perché Tecna Argilla è uno dei migliori dei migliori del mondo per le industrie ceramiche, soprattutto per la partecipazione tecnologica. Sono un professor di ceramica ingegneria. E sono il primo e solo professor di ceramica ingegneria in Nigeria. E questo è molto interessante per noi, perché ci aiutiamo a fare il sviluppo del sviluppo del sviluppo del nostro paese. Quindi la città è il punto di focalizzazione della nostra comunità. Ciò che Tecna Argilla può fare nel vostro negozio? Molto. Abbiamo bisogno di tecnologie per la processione di solid minerali. Abbiamo bisogno di tecnologie per produrre varie tipi di ceramica. E abbiamo bisogno di legare la tecnologie al negozio. Quindi siamo qui. Abbiamo preferito.